Buonasera, sono le 18.29 di venerdì 18 ottobre e torniamo a parlare finalmente di Oro con l'analisi ciclica evoluta, un metodo statistico-matematico non discrezionale con il quale hai visto continuano ad essere corrette le analisi, con un'eccezione questa volta, un'eccezione di tempo, e puoi andare a ricevere tutte le informazioni e richiedere la guida gratuita sul sito analisievoluta.com, almeno capirai che cosa stiamo dicendo perché il gergo è molto tecnico ma proverò in ogni caso a renderlo più semplice possibile. Allora, dove eravamo arrivati? Come detto precedentemente, nella precedente analisi che puoi sempre trovare sul primo canale di analisi evoluta e analisi ciclica in Italia, con oltre 17.300 iscritti, oltre 3.500 video e domani tra l'altro ci sono live, attenzione perché parleremo di S&P 500, di Bitcoin o Ethereum, di DAX e quindi se ti interessa, domani mattina preparati perché arriveranno tutti gli avvisi anche sul canale Telegram. Questo è l'unico originale, Evoluta Jacopo Marini Trading, dove ogni tanto metto anche contenuti aggiuntivi come per esempio un articolo che mi era stato pubblicato sul Milano Finanza appunto anni fa. Ok? Per cui se ti interessa avere sempre queste analisi, essere sempre avvisato quando ne esce una nuova, registrati anche gratuitamente al canale Telegram. Torniamo a noi però, appunto, che cosa è successo? Abbiamo avuto discesa sì, ma per pochissimo tempo. Abbiamo avuto la discesa per far iniziare un nuovo ciclo settimanale di inverso? Adesso te lo faccio vedere perché si stanno ammattendo. Abbiamo avuto meno delle classiche 48 barre che abbiamo sempre. E questa cosa però l'ho già notata ed è già successa anche su S&P 500, Nasdaq, tutto a causa della tendenza troppo forte a rialzo. Anche il migliorino diceva questa cosa, però caspita, qui iniziamo a essere sempre più tirati, con quasi 44 barre. Uno non si aspetterebbe una partenza di un settimanale inverso e direbbe, ma caspita, ma che cosa sta succedendo? E invece qui tirano su dritti e continuano a salire perché? Perché adesso, riprendendo appunto il grafico, siamo a 268 giorni di annuale che poi va a 336. Non continuiamo ad avvicinarci neanche morti dopo la piccola discesa a questo livello che era il punto J che diceva basta con la salita, adesso inizia qualche cosa di grosso l'inverso. Non abbiamo sfiorato il supporto, sì, beh, si siamo avvicinati al supporto dinamico, ha funzionato meglio il canale di uno dei pezzi del tecnica 4 che ci permette di avere determinate informazioni e quindi ci siamo avvicinati sì a livello, ma ha funzionato meglio appunto il canale e poi che cosa? Abbiamo continuato ad andare su. Questo perché? Perché mi sono riguardato il grafico, ok? A parte il discorso che dicevamo sul tecnica 5, eh sì, dovrei cambiare nome ma ormai tecnica 1, tecnica 2, tecnica 3, tecnica 4, ma si confondono con i Tracy, con il Tracy più 5, l'annuale. Questo è un ciclo annuale. L'annuale può arrivare fino a 336 giorni, siamo a 268, quindi siamo tranquilli e si continua a salire. Di inverso però mi sono detto ma che cosa vogliamo fare? Poi effettivamente andando a guardare qua ho detto ah ma caspita, comunque qui stiamo parlando di un quarto ciclo annuale inverso. Che cosa significa quarto ciclo annuale di inverso? Significa che un raccordo che prima ti avevo segnalato con un punto di domanda effettivamente tra un t più 7 inverso, perché un quadrinale è un t più 7 inverso, tra un quadrinale inverso e l'altro è di grado? T più 7 meno 3 gradi, t più 4 inverso. Eccolo qua. Ed è un ciclo che può rischiare, se confermato, ripeto, può rischiare se confermato perché sono magici, ok? Se confermato di continuare a portarci a trovare un massimo assoluto come minimo entro 96 giorni di durata minima che ha. Da questo massimo a questo minimo al prossimo massimo che farà, che quindi potrebbe essere a fine novembre. L'oro può salire a sali e scendi fino a fine novembre. Mamma santa! Ho ricontrollato poi da qua. Qua per far partire il raccordo non deve rispettare il discorso di un tot di giorni sotto un massimo. Poi sono raccordi talmente grossi che sinceramente non... adesso si possono vedere dei raccordi così, quindi è tutta una novità questa parte e quindi mi raccomando tutti fate attenzione perché non è affatto semplice tradare una commodity che continua solo a salire con dei raccordi giganteschi, delle finte a ribasso con rialzo continue, ok? Per cui io ragionerei come mi avete fatto notare dal sondaggio di indici americani e vorrei fare più S&P 500, ma comunque, ok, in ogni caso, il discorso è che l'aspettativa principale può essere di anche un po' di storno per chiudere magari lato indice, perché siamo già sette giorni e non c'è un accenno di discesa, anche un pochino di discesa per chiudere un primo ciclo, prima parte del ciclo settimanale inverso che si chiama in gergo tecnico T-1 inverso e farne partire un altro e poi però un aggiornamento dei massimi. Un aggiornamento dei massimi anche perché siamo rimasti sotto questo massimo per oltre 12 giorni, quindi da qui può partire il secondo trimestrale del semestrale di raccordo iniziato qua e a quel punto lì possiamo continuare appunto a salire, a salire con poche discese e molte salite, poche discese e molte salite. Devo vedere ancora se il punto G rimane qua perché a fuia di salire viene tutto modificato, essendo questo un modello dinamico e anche volumetrico, viene tutto stravolto, viene tutto cambiato, tutte le volte che si va a fare un massimo assoluto o un minimo assoluto, tutto si adatta, rispetto alla vecchia analisi ciclica è molto più dinamica, l'analisi ciclica è evoluta, poi nell'analisi evoluta abbiamo il punto G che non esisteva come la parte volumetrica, come la parte delle candele giapponesi nella vecchia analisi ciclica e questo è quello che possiamo continuare ad aspettarci, cioè ritrovare un top assoluto entro le 11 barre di questo settimanale inverso e siamo a 5. Può fare tutto diritto, chiudere su, per l'alternanza dovrebbe prima fare un pochino di discesa, quindi disegniamola bene questa cosa, un pochino magari di discesa e poi però oppure andare direttamente su, cioè se vuole si spara tutta salita e non c'è molto altro da raccontarsi, certo che qui ogni tanto TradingView la rende dura la vita, mamma mia, si tolgo l'ancoraggio, va bene, però siamo talmente in su che per fare un disegno, ricordati che penso di essere l'unico o uno dei pochi analisti che disegna esattamente il movimento che si aspetta dal grafico e che nella maggior parte dei casi appunto funziona. La scorsa purtroppo abbiamo avuto pochissima discesa, solo una candela rossa, ma comunque l'abbiamo avuta, eccola qua, per poi fare immediatamente salita, però la tendenza volumetrica è questa e purtroppo sappiamo tramite libri anche del migliorino e tramite la pratica quotidiana che quando c'è una forte tendenza si riducono i tempi di partenza dei cicli persino giornalieri d'inverso giornalieri, quindi a questo punto questa è l'aspettativa principale, questo è il target a 2756 che fa da resistenza, non ci siamo avvicinati neanche lontanamente al supporto dinamico 2 perché il primo l'avevamo già preso appunto con la discesa fatta e adesso continuiamo a ragionare di tutto quello che c'è prima che è stato poderosamente rotto a ribalzo, rialzo appunto da oro e che ci dà una view che non sta cambiando molto rispetto a quello che per adesso abbiamo visto. Per questo motivo se l'analisi ti è piaciuta, se sarà corretta, se guadagnerai perché tanta gente guadagna anche dall'analisi gratuita che faccio, metti un bel like e condividi il canale con tutte le persone a cui piace fare trading sulle commodity e sull'oro, ma ricorda loro che dato che siamo in un'eccezione, un raccordo è una finta che si aggiunge eccetera, dato che sono persino andato a rivedermi se da qua poteva partire un annuale d'inverso, con 26 barre facciamo poco, al massimo parte un semestrale, allora sono andato a rivedermi qua a 41 barre, niente, non abbiamo nessun trimestrale d'inverso che già vincolato ci porti a essere su un nuovo annuale inverso. In ogni caso spero che tu apprezzi lo sforzo anche del venerdì pomeriggio perché ti giuro con tutto il cuore dopo tutta la giornata di trading iniziata verso le 8, che avrei soltanto voglia di andare a dormire adesso, neanche di andare più a mangiare e men che meno di fare queste analisi, però volevo tenere fede alla promessa di cercare di farle comunque a livello settimanale, anche se penso che passeremo invece a parlare di più anche infrasettimanalmente oltre quella che è la programmazione sui squat di tutti i martedì live in cui puoi farmi domande e andremo anche a parlare magari il mercoledì di cosa sta facendo S&P 500 piuttosto che Nasdaq perché vedo che in tanti appunto sta esprimendo questo genere di richiesta. Vedremo se mi richiameranno di nuovo per House of Training perché la precedente puntata è stata un'emergenza e stiamo un attimo rivedendo determinate cose e come al solito però vi darò informazioni direttamente su Facebook e basta anche in questo caso andare sulla pagina di analisi evoluta, eccola qua, che trovate digitando direttamente appunto su Facebook, analisi evoluta e trovate tutto qui. Se vi iscrivete, se diventiamo tra virgolette amici potete avere anche dei contenuti aggiuntivi come per esempio appunto un articolo che è apparso, un mio articolo, eccolo qua, apparso su Milano Finanza un paio di anni fa se non mi ricordo male in cui appunto parlavo insieme a Mardovino di che cosa ci si aspettava sui mercati finanziari e se leggi bene l'analisi era tutto poi corretto e si è dimostrato corretto anche questa volta. Ok? Ti ringrazio per il tuo tempo e ci vediamo questa sera per Bitcoin. Ok? Buona serata!